Buonasera al Presidente Fausto Bertinotti, che è Presidente della Camera, ma stasera in veste di candidato Premier della Sinistra d'Arcobaleno. La Sinistra d'Arcobaleno ha presentato oggi un programma in 14 punti, però Presidente io vorrei cominciare da Sicilia, perché la vostra alleanza con Anna Finocchiaro in Sicilia, quindi con la candidata lanciata dal Partito Democratico contro il centrodestra, non è ancora sicura. Tanto mi può dire se vi alleerete, appoggerete anche voi la Finocchiaro oppure no? Guardi, le decisioni non è un modo di sfuggire, le decisioni di governo locale per noi è un punto di ispirazione fondamentale, vengono decise localmente. Naturalmente c'è un indirizzo generale ed è quello di cercare, laddove siano possibili, le alleanze con le forze del centro-sinistra. Ma l'esito di questa ricerca dipende dai contenuti programmatici, le caratteristiche che assumono le altre forze del centro-sinistra, di fronte anche a grandi termini. Quindi c'è un lavoro in corso in Sicilia, è stato anche indicato un tandem di due donne che potrebbero guidare la coalizione tra queste forze, la sinistra d'Arcobaleno e il Partito Democratico, Anna Finocchiaro e Rita Borsellino che riduce da una straordinaria esperienza di partecipazione, di costruzione di movimento. Le forze dell'Arcobaleno lavorano in questa direzione e decideremo. Sa perché glielo domando? Perché è nato un problema sulla Finocchiaro? Perché Anna Finocchiaro in veste nazionale, mettendosi come dire il vestito nazionale ha parlato del voto utile per il PD, quindi diciamo inutile per voi sostanzialmente e questo ha fatto reagire nervosamente la sinistra d'Arcobaleno. Sono due temi distinti, la figura del Finocchiaro come dirigente nazionale del Partito Democratico si esprime su quel terreno, subisce una replica molto dura anche da parte mia, secondo me meno sempre di quello che si meritava perché una leader del Partito Democratico che dice sostanzialmente votate per i due grandi partiti, il che vuol dire che se non voti il Partito Democratico è meglio votare per Berlusconi che per la sinistra d'Arcobaleno, si capisce bene che dice una cosa impresentabile. Per questo che ponevo un problema di coerenza perché poi alla fine il voto nazionale e il voto addistrativo si sovrappongono il 13 di abrile. È un problema soltanto della Finocchiaro, il problema invece in Sicilia è quello di costruire se esiste un'alleanza su una base programmatica forte, capace di portare avanti l'antimafia sociale, di affrontare i grandi problemi di questa regione che avrebbe una grande possibilità davvero nel Mediterraneo di rinascere e che invece è strangolata dalle sue classi dirigenti. Sette, invece a Roma con Rutelli avete ricevuto garanzie che il programma tra voi e Rutelli è compatibile? È stato fatto l'accordo, non solo compatibile, insomma che si sono determinati dei punti di convergenza importanti, del resto da 14 anni lo schieramento della sinistra, del centro-sinistra che governa Roma. Non lo dico perché voi vi ispirate nel nostro programma molto a Zapatero, nel senso sul terreno degli unioni civili, dei rapporti tra persone anche dello stesso sesso, mi pare che a Roma la linea Veltroni di cui Rutelli garantisce una continuità sia quella per esempio di non mettere i registri per le copie di fatto, di non istituirli, questo può essere un elemento di rottura. Ma noi siamo stati fino a ieri, anzi ancora oggi il governo a Roma con Veltroni, non è che sia scappato, il fatto che abbiamo dei dissensi su questo, le coalizioni propongono sempre qualche area di dissenso, sempre. In questo caso l'abbiamo manifestato appunto come sinistra arcobaleno. A livello nazionale, noi abbiamo una piattaforma chiarissima, dalle unioni civili al riconoscimento dei diritti di tutte le differenze, a una nuova idea della cittadinanza, faremo su questo una grande battaglia politica e culturale. Tanto volete da soli, appunto dico quindi, non dovete sottostare a logiche di coalizione. E quindi facciamo valere le nostre ragioni. Quando si fa una coalizione bisogna vedere se la convergenza è tale da essere accettabile per tutti quelli che lo compongono e noi anche candidando una persona come Patrizia Sentinelli, come un punto di riferimento importante per questa coalizione, diciamo chiaramente quant'è forte la ricerca di una unità a Roma per governare la città anche riprogettando un nuovo orizzonte per Roma e quanto teniamo a far valere le ragioni che non solo quelle che dice lei, anche quelle in particolare delle grandi periferie urbane, di come si vive lì, di qual è la qualità della vita, dei piani urbanistici. Dunque, in Liechtenstein ci dice, Vincenzo Visco, ci sono almeno 150 grandi evasori italiani che hanno nascosto lì dei soldi. Ci sono le liste, si parla di imprenditori, forse di politici. C'è chi dice fuori subito i nomi di questi grandi evasori? Lei che idea si è fatto di questa? I nomi devono essere resi noti secondo lei? Assolutamente sì. Intanto purtroppo non ci si può stupire, purtroppo, perché il Paese era avvertito di questa montagna opprimente che è l'evasione fiscale. Si calcola che tra 100 e 200 siano i miliardi di evasione dell'anno, in un'economia in cui il 25% è sommerso. E già nello scandalo bancario del luglio scorso si era visto che le strade verso i paradisi fiscali riguardavano grandi banchieri, grandi imprenditori e quindi che c'è del marcio in Calimarca, cioè in Italia, sulla questione fiscale. Infatti noi pensiamo che questa sia una questione di rimente. Lei gli evasori li metterebbe in galera? Ma guardi, quelli che fanno dei reati tali da meritarsi la galera sì perché... Cioè bisogna inasprire le pene per gli evasori fiscali? No, bisogna cercare gli evasori. Non sfuggiamo, come sempre, si scavalca sempre. Gli evasori possono essere colpiti come è necessario, soltanto che bisogna fare una battaglia a fondo per questo. Credo, come diciamo, che bisognerebbe dire in un anno di quanto riduciamo l'evasione fiscale, nel secondo anno di quanto, il terzo o il quarto e il quinto di quanto. E se non si raggiungono questi obiettivi si va a un'autocritica severa, si capisce dove stanno le cose che non funzionano. Perché quando si ha un'evasione fiscale che è quattro volte la media europea e si ha metà della popolazione che dipendendo dal lavoro dipendente non può evadere, perché ha il prelevo alla fonte, la lotta all'evasione, se non la fai, è la prima delle colpe politiche. Ma secondo lei bisognerebbe applicare delle sanzioni, degli embarghi a questi paesi che favoriscono un'evasione fiscale, parlo di Allorra, Principato di Monaco. Ma non c'è dubbio, il governo italiano dovrebbe fare delle sanzioni. Il governo italiano dovrebbe battersi in Europa perché l'Europa stabilisca delle sanzioni in questa direzione, che abbia una forza per stabilire. Ma intanto, anche qui, insisto, non si sfugga dalle responsabilità, perché l'Italia ha un'evasione fiscale che è quattro volte la media europea. Quindi, faccia intanto come gli altri paesi europei. Anche per gli altri paesi c'è il Liechtenstein e si vede per la Germania. Tuttavia, noi abbiamo un'evasione che è cinque volte tanto la Germania. Allora, prendiamoli, mettiamo in galera, se ci sono dei reati da galera, in ogni caso esponiamo all'udibrio della nazione i grandi evasori che sono in comportamenti, questi sì, contro la patria. A questo serve pubblicare le liste, c'è lei. Esattamente, vengono denunciati. Una sorta di pubblica agogna per gli evasori. Loro hanno messo il paese in una condizione di non avere risorse necessarie per fare l'asilo nido per un bambino, ma le pare una responsabilità da poco. Se lei diventasse premier, se lo prenderebbe Visco come ministro delle finanze? Io penso di sì. Gli chiederei di dichiarare più apertamente. Visco è un uomo che ha fatto il ministro delle finanze con coerenza. Ma penso che questo terreno della lotta fiscale bisogna farne un terreno anche di lotta politica pubblica. Una grande battaglia di riforma pubblica. Mi viene in mente, a proposito di evasione, che voi faceste in campagna elettorale nel 2006 un manifesto, che non so se la regia può rimandare in onda se ce l'abbiamo, che si chiamava anche i ricchi piangano. Lo rifarebbe? Eccolo qua. Non lo posso rifare perché non l'ho fatto io. Era il partito in cui milito, ma allora mi occupavo di altro, lo facevo a pieno tempo il Presidente della Camera dei Deputati. Tuttavia, è evidente un gioco iperbolico, perché tanti ricchi poi non piangono mai, intendiamoci bene da questo punto di vista, ma quel panfilo che si vede a volte è totalmente esentasse. C'è qualcuno che si sente di difendere una condizione di questo genere? Quindi lo rifarebbe. Non l'ha fatta lei, ma l'apprezzerebbe. Guardi, ma non mi piace giocare sulla battaglia. Io vorrei che quello lì pagasse le tasse. Bene. Come? Almeno quanto il lavoro dipendente. Perché poi quel signore quando paga le tasse, perché magari le ha prese con i soldi delle stock option, ha un prelievo fiscale che è la metà di quello del lavoro dipendente, il quale paga circa il 23%, il 23% sulla sua busta paga, il 23%, e il miliardario che prende le stock option paga il 12%. Dunque, pedofilia, Walter Veltroni non ha escluso l'ipotesi della castrazione chimica. Naturalmente ha dato un giudizio molto prudente, dicendo che bisogna verificare l'efficacia, ma non l'ha negata decisamente lei? Io trovo che questa politica degli annunci, a chi la dice più forte, più violenta, sia cattiva educazione. Già il Paese l'ha vista in passato. C'è un evento drammatico, succede una tragedia. Allora la questione della sicurezza si pone con una drammaticità e tempestività. fai un gesto simbolico, vari un decreto. Poi adesso nessuno si chiede se quel decreto è stato approvato o no, in realtà non è stato approvato. E allora? Adesso si usa un termine violentissimo, castrazione chimica, violentissimo. Ma perché? Quando persino studiosi che lavorano sistematicamente su questa questione dicono della totale incertezza degli effetti di questo eventuale intervento rispetto all'obiettivo perseguito. Un depotenziamento ormonale del soggetto in questione. Di questo si parla di una cura farmacologica. Autorevolissimi farmacologici dicono che è in dubbio il risultato. E chi ne parla anche con grande attenzione chiede prudenza. Perché la politica deve spararla così grossa. Per quale ragione? Allora mi dice lei come si fa a togliere da una strada un pedofilo pericoloso? Perché naturalmente è nato da un fatto preciso, questa questione di castrazione chimica. Da una violenza, da una bambina di 4 anni, da parte di un pedofilo che era in libertà. Nonostante questo è il recidivo. Perfetto, su questa escalation non ci fermiamo più. Anche il linciaggio diventa buono. Tanto dobbiamo eliminare nel modo più breve. Io faccio notare il fallimento di tutte queste ipotesi. Tutte queste presuntuosi proclami hanno lasciato sul terreno soltanto guai maggiori. Quelli che hanno detto tolleranza zero non sono riusciti a perseguirle. Tanto è che il famosissimo sindaco di New York, Giuliani, protagonista primo della tolleranza zero, vede subire scacchi rilevanti alla sua politica e quando si presenta alle primarie perde, perché ormai non ci si può più pronunciare in quella direzione. Allora, io sono per fare delle politiche di prevenzione, di intervento e di cura. E come si fa a fare una politica di prevenzione sulla pedofilia, secondo lei? Intanto bonificando l'ambiente, intanto non consentendo che i bambini possano avere libero accesso a delle informazioni da cui possono attingere scene di violenza e anche di pedofilia, intanto intervenendo per un contrasto con grandi interventi e investimenti politico-culturali, intanto perseguendo i reati, intanto facendo dei processi brevi, con delle garanzie delle pene e quando la pena è stata eseguita totalmente con un seguito di intervento terapeutico quando necessario, terapeutico e comunque di controllo in modo che non si possa esercitare. Ma siccome tutte queste cose sono difficili, si pretende invece di farle e di misurare l'inefficacia della pubblica amministrazione, l'inefficacia della giustizia, di cui portano le responsabilità ovviamente alle classi dirigenti, fare la fuga in avanti di gridare una cosa che colpisce emotivamente la gente, in modo che i processi continuano a non finire mai, che le pene continuano a non essere realizzate e che quando anche colpiti dalle pene, qui deve, non è seguito né dalla terapia né dal controllo. Allora, le faccio vedere un attimo un vostro candidato indipendente delle scorse elezioni che era Francesco Caruso. Paola Baruffi riassume un po' la sua attività in questi 20 mesi. Il 21 febbraio 2006 il No Global Francesco Caruso dichiara. La sovversione non è un diritto, è un dovere. Un mese e mezzo dopo Caruso è deputato, eletto come indipendente nelle liste di rifondazione comunista. 13 novembre 2006. Ho seminato alcuni semi di marijuana nelle fioriere del cortile della Camera dei Deputati e sono in questi giorni già sbocciati i primi germogli. Si scatena una bufera politica e lui ritratta. Queste forme di provocazioni di guerriglia comunicativa servono per aprire il dibattito nel nostro paese sull'assurdità di una legge che per una piantina va a finire in galera. Il 9 dicembre 2006 si rinchiude nel CPT di Crotone per protestare contro le condizioni in cui vivono gli immigrati. 18 gennaio 2007. Sostiene di aver trovato due Molotov alla Camera e dichiara. Forse sono le Molotov sparite dal Tribunale di Genova, il famoso corpo del reato dell'aggressione alla Diaz. 5 febbraio 2007. Mentre a Catania si celebrano i funerali di Filippo Raciti, il polizioso rimasto ucciso durante gli scontri con un gruppo di ultrà, l'onorevole Caruso dichiara la polizia manganella nel mucchio e chi trova, trova. 9 agosto 2007. Marco Biaggi e Tiziano Treu, con le loro leggi, sono gli assassini di due giovani morti sul lavoro ieri a Mugnano e Bolzano. Poi ritratta. L'intento provocatorio purtroppo ha avuto un effetto disastroso, però resta il problema che sono assassini, non Marco Biaggi e Treu, ma sono assassini il pacchetto Treu e la legge 30. Ricandiderete Francesco Caruso? Lo deciderà l'arcobaleno, non io che non mi occupo delle liste, lo deciderà in piena libertà. Certo che faccio notare che se ci si esercitasse così su parlamentari molto autorevoli, mettendo in contrasto le loro dichiarazioni, ne vedremo delle belle, anche di quelli che vanno per la maggiore. E poi Caruso, Luxuria, molti altri, è vero, noi abbiamo fatto una politica di grande apertura ai movimenti. Ma sono due casi diversi, Luxuria e Caruso, non le mette a sé? Luxuria non è stato protagonista di casi così clamorosi, diciamo? No, ma tutti sono, infatti, l'autogol, diciamo? No, ma appunto tutti, perché ho detto Luxuria? Perché ci sono cose molto diverse tra di loro. C'è il leader del Leon Cavallo, Farina. Abbiamo fatto una politica di grande apertura dei movimenti e queste sono realtà contraddittorie. Caruso, per esempio, ha detto delle cose che a me sono sembrate, e l'ho detta così, delle sciocchezze come quella che qui è vista sulle moto, oppure ha fatto degli atti anche importanti e coraggiosi come la denuncia dei CPT. Quando siamo stati in disaccordo, l'abbiamo detto, e in ogni caso Caruso era uno dei tanti del gruppo della rifondazione comunista, le decisioni politiche sono state assunte dal gruppo come tale, e di queste il partito risponde con assoluta serenità. Mi pare che comunque lei abbia ieri espresso proprio Matrix la sua personal opinione, che insomma, secondo lei, candidare Caruso non è stata una scelta felice, questo lei l'ha detto. Non ho detto una cosa precisa, dal punto di vista dell'opportunità non è stata una scelta felice. Rivendico l'apertura che abbiamo fatto nelle nostre liste all'esperienza di questo movimento. A proposito dei movimenti, poi dopo invece entriamo sul programma economico di Sinistra Arcobaleno. Il rapporto con i movimenti è stato in crisi per un certo periodo, il rapporto tra voi e i movimenti. Vi si contestava di essere troppo, di esservi insenzionalizzati, di essere diventati un partito di moderati. C'è stata una sottovalutazione di quel movimento? In effetti c'è stato questo problema, voi pensate di recuperarlo? Guardi, intanto, come diceva un grande evoluzionario, anche i movimenti non sono un ballo di gala, ci sono momenti di grande convergenza tra una forza politica e anche tra forze politiche che scelgono come elemento fondamentale della loro esistenza il rapporto con i movimenti e ci sono ragioni di conflitto, perché esiste un'autonomia. E indubbiamente quando si ha il governo questo problema è tanto più grande, perché è evidente che se c'è un movimento come quello che ha contestato quella linea della TAV, con un motto di popolo così straordinario, tenere la barra di una presenza al governo e di un rapporto con quelle popolazioni a volte riesce, a volte no. In quel caso della TAV è riuscito, nel caso di Vicenza non è riuscito, anche secondo me per la scelta sbagliata del governo di chiudere le porte alle istanze che venivano a porte dalla popolazione di Vicenza. Bene, si ferma che c'è il telegiornale, avviso tra l'altro i nostri spettatori che subito dopo il telegiornale presenteremo un nostro sondaggio di PR Marketing, proprio fatto per noi, che fa veramente la fotografia a oggi della situazione della Sinistra Arcobaleno. Tra pochi minuti. Saluto anche Antonio Noto, presidente di PR Marketing, che ha preparato proprio per noi di Controcorrente un sondaggio molto dettagliato su Sinistra Arcobaleno. Buonasera Noto. Chiedo a Noto di aspettare un momento perché ho due domande veloci per Bertiotti. La prima è come giudica lei la campagna di Walter Veltroni finora? Invasiva. Può specificare meglio in che senso? Nel senso che mi pare che stia sulla scena con una grande potenza di iniziativa propria, di mezzi e che tende a invadere il terreno complessivo della campagna elettorale, anche aiutandosi al comportamento del Partito delle Libertà, con la quale si tende a costruire un duopolio assecondato dai grandi mezzi di comunicazione per operare una falsificazione del dibattito politico italiano per ridurre a due una realtà che per fortuna è più complessa e che se venisse ridotta a due determinerebbe tra l'altro una scomparsa della sinistra, della sinistra Arcobaleno in Italia con il guaio assai serio che le domande più radicali di cambiamento verrebbero estromesse dalla scena della politica. Quando lei dice con la complicità del sistema di comunicazione cosa intende? Basta vedere i telegiornali. Cioè lei pensa che i telegiornali italiani diano voce soltanto a Veltroni e Berlusconi? Io lo penso, basta vedere i minutaggi, non è un pensiero, è un'analisi scientifica di quello che accade. Non colpevolizza nessuno, noi abbiamo presentato anche oggi alla presidenza della Commissione di Vigilanza un rilievo molto critico, del resto è lo stesso rilievo che muove dall'altra parte Casini, i socialisti e gli altri, è del tutto evidente che c'è una tendenza a realizzare un regime di duopolio che è assai allarmante, perché riduce gli spazi della democrazia. Un'altra domanda che volevo fare riguarda invece i salari. Al punto 3 del vostro programma si dice che si propone un meccanismo di recupero automatico annuale dell'inflazione reale. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che l'inflazione reale sui generi di prima necessità in Italia è al 5%, ma se voi introducete quella che io chiamo scalamobile, si chiama male, però può. Sono indotto a pensare che lo sia, poi ci spiega perché non lo è magari. L'adeguamento dei salari all'inflazione non genera nuova inflazione? Appunto, questa è stata la tesi che è stata usata quando fu attaccata la scalamobile, la faccio notare e ricordo perché ormai i tempi sono lontani, che quello che era accusato di determinare questa attesa inflazionistica era il carattere reiterato dell'adeguamento, cioè ogni 3 mesi. Si diceva che facendo l'adeguamento ogni 3 mesi è così ravvicinato il tempo che questo produce un'attesa di aumento dell'inflazione e l'altro elemento critico della scalamobile fu il punto unico di contingenza, cioè il fatto che si sarebbe prodotto per quella via un appiattimento nelle retribuzioni tra quelle medio-alte e quelle basse e avrebbe producato quindi dei guatti. Solo per inciso vorrei dire, senza nessuna nostalgia, che non avere avuto la scalamobile ha liberato i prezzi, perché si possono aumentare così a tutto danno solo del lavoro dipendente, tutti gli altri possono aggiustarla, ma il lavoro dipendente no. E quindi scaricati da questo contenimento che era determinato da un vincolo che redistribuiva su tutti l'aumento dei prezzi, specie dopo l'euro, ma anche ora, i prezzi sono schizzati in avanti in maniera disastrosa e i salari, stipendi e pensioni hanno pagato per intero il prezzo dell'aumento. Noi diciamo basta, arrivati a 1000 Euro al mese, basta, non può essere che paghino sempre quelli e solo quelli, quelli che peraltro scontano 4 morti al giorno sul lavoro, un numero sterminato di infortuni ordinari, malattie sociali. Quindi secondo questo meccanismo il salario dell'operaio dovrebbe crescere del 3% l'anno? Fatto 100, la retribuzione dell'insegnante, dell'operaio, del tecnico, al primo gennaio si vede la dinamica dei prezzi e la dinamica dei salari e delle retribuzioni. Se l'inflazione è stata 3? Al 31 dicembre se l'inflazione è cresciuta del 3 e i salari non sono cresciuti in maniera corrispondente, vengono adeguati al 3, cioè vengono riportati al livello che avevano al primo gennaio. Questo non determinerà ulteriore inflazione secondo lei? La inflazione ce l'abbiamo adesso sotto i piedi e non c'è questa indicizzazione. Non la farà crescere ancora di più? Mi si dovrebbe spiegare perché, per quale è la ragione? Perché l'adeguamento in generale è la possibilità di spendere di più e quindi di far salire ancora l'inflazione. Questo è quello che dicono gli economisti. Sì, perché naturalmente uno se passa da 1000 euro al mese al 1100 fa uno sfacello di acquisti che rovina l'economia del paese. Bene, sondaggi. Allora Antonio Noto si tiene pronto, cominciamo subito con il primo cartello che è quello più ovvio, cioè se si votasse oggi quanto vale sinistra arcobaleno? L'elettorato oggi va tra il 7 e il 9%, se si votasse oggi che il 28 di febbraio, ma il potenziale di sinistra arcobaleno è da un minimo del 5% a un massimo del 15%. Quindi guardi Bertinotti che forbice ampia che c'è, tra poco spiegheremo anche, anzi ci spiegherà Noto, perché questa forbice è così ampia. Andiamo avanti, secondo cartello. Quali sono i partiti della sinistra arcobaleno? È stato chiesto al campione che è Noto, intanto spieghiamolo sempre, il campione su cui è stato effettuato oggi il vostro sondaggio IPR Marketing? Sì, è un campione di 1000 italiani rappresentativo per sesso, età ed area di residenza. Bene, allora in questo secondo cartello Noto vorrei che ce lo spiegasse lei. Che cosa avete chiesto agli elettori italiani? Ecco, noi abbiamo chiesto, perché il simbolo sinistra democratica è un simbolo nuovo, abbiamo chiesto agli italiani se conoscono la composizione elettorale dei partiti della sinistra arcobaleno. Bene, il 48% degli italiani ha dichiarato che all'interno della sinistra arcobaleno c'è rifondazione comunista, il 43% ha dichiarato che ci sono i comunisti italiani, il 38% i verdi e il 20% la sinistra democratica. Ecco, questo è un dato che noi riteniamo molto importante, perché vuol dire che c'è una bassa riconoscibilità del simbolo. E io ritengo che prima di iniziare a pensare di incrementare il consenso, bisogna pensare a mettere in atto azioni di comunicazione per rendere riconoscibile questo simbolo. e quindi attrarre anche quell'elettorato che storicamente era attratto dai partiti che oggi compongono invece la sinistra arcobaleno. Bene, andiamo avanti. Terzo quartello. Eccolo qua. Allora, il profilo elettorale della sinistra arcobaleno. Sono prevalentemente femmine, per il 57% del vostro elettorato scelto è composto da donne, il 43% da maschi, poi, andiamo avanti, sono per lo più di mezza età, tra i 35 e i 54 anni per il 52% degli elettori, avete pochi giovani, Presidente Bertinotti, solo il 17% ma tra i 18 e i 34 anni. Lo faccio notare che il sondaggio pubblicato da Mannheimer l'altro giorno ci dava una delle più alte percentuali di giovani tra tutto il panorama politico italiano. Mistero, noto, può essere una metodologia diversa, che cosa può portare un risultato così differente? Cioè, attribuiva una percentuale alta come la Lega, cioè tra i più alti in percentuali. Noto? Presidente, non dobbiamo confondere i dati, nel senso che in questo momento noi abbiamo diviso, come abbiamo visto in tabella, l'elettorato certo e l'elettorato potenziale. Nell'elettorato certo oggi noi abbiamo il 17% dei giovani. Nell'elettorato potenziale, cioè quello che poi interessa maggiormente, l'incremento elettorale della sinistra arcobaleno, addirittura i giovani possono arrivare al 43%, quindi vuol dire che questo partito ha una forte potenzialità di crescita tra i giovani. In questo momento appare debole. In questo momento il Partito Democratico è al 7-8%, se è fortissimo tra i giovani avrebbe il 13-14%. Quindi stiamo parlando di una potenzialità che può fare in modo che la sinistra arcobaleno possa acquistare consegne. È importante dividere l'elettorato certo perché è certo che se andasse a votare oggi il 28 febbraio, potenziali sono quelli che prendono in considerazione l'ipotesi di votare per la formazione cappeggiata da Bertinotti. Andiamo avanti. C'è un altro profilo che riguarda invece il titolo di studio. Allora, chi oggi vota certamente per sinistra arcobaleno ha un titolo di scuola superiore nel 53% dei casi rispetto alla popolazione elettorale che è il 36%, significa che è decisamente sopra la media, la composizione colta dell'elettorato vostro. E questo è tradizionale. Inferiore il 47%. Andiamo avanti. Un altro cartello. Ecco, questi importanti flussi di voto, ce li spiega Noto? Sì, ecco qui prendo anche io. Esattamente. Noi abbiamo analizzato a questo punto l'elettorato certo. Quindi fatto pari a 100 coloro i quali oggi votano la sinistra arcobaleno, abbiamo analizzato cosa hanno votato due anni fa le politiche del 2006. Il 35% degli elettori di oggi della sinistra arcobaleno votò rifondazione comunista. Il 15% i comunisti italiani e il 18% i verdi. Ma il dato interessante per il Presidente Bertinotti può essere che il 17% dell'elettorato di oggi, certo, di sinistra arcobaleno votò nel 2006 l'ulivo. Quindi è vero, in tutti i flussi ci sono sicuramente flussi di andata e di entrata da e per il Partito Democratico. Però la sinistra arcobaleno rosicchia qualcosa anche dal Partito Democratico. Non cede solamente consenso al Partito Democratico. E qualcosa anche dall'Italia dei Valori. Andiamo avanti al prossimo cartello. Ecco, chi prende in considerazione la sinistra arcobaleno, ma anche, e quindi non ha ancora deciso, quindi sugli elettori potenziali, nel 74% degli intervistati prende ancora in considerazione di votare o per voi o per il Partito Democratico. Il 34% è il Partito Comunista dei Lavoratori, che quindi sta invece alla vostra sinistra. I tali dei Valori nel 30%, Partito Socialista 27%, addirittura Udc 23, Popolo della Libertà 17%. Questo significa, Antonio Noto, che cosa? Ecco, questo è un po' l'altra faccia della stessa medaglia. Da una parte vuol dire che la sinistra arcobalena ha una potenzialità di elettorato, di incremento elettorale molto forte in campagna elettorale. Dall'altra parte ha un concorrente interno che invece, da un punto di vista mediatico, è molto più forte. Cioè, il 74% degli elettori che prendono in considerazione il voto alla sinistra arcobaleno prende in considerazione anche il voto al Partito Democratico. Oggi non è detto che questo voto vada né a uno né all'altro, però la forza mediatica può essere un elemento importante per la formazione del consenso. Questo, per concludere, spiega perché la forchetta nel voto potenziale è così larga, tra 5 e 15, proprio perché c'è questo 74% dei elettori che prende in considerazione anche di votare per il Partito Democratico. Dunque, grazie Noto. Allora, Walter Veltrone ha detto, sui giornali di oggi, Presidente, che è superficiale parlare di ingerenze della Chiesa nella politica italiana. È d'accordo? No, perché penso che purtroppo una ripresa a una disposizione di ingerenza in questo ultimo scorcio di vita politica, culturale e religiosa nella Chiesa Cattolica si sia manifestata. Forse sono avvertito e sensibile perché appartengo a una generazione che è cresciuta nel tempo conciliare, del concilio Vaticano II, degli uomini di buona volontà, del dialogo tra credenti e non credenti, persino del dialogo tra marxisti e cristiani. Quindi, diciamo, sono cresciuto con un'attitudine a non considerare una barriera la difesa tra credenti e non credenti, tra laici e cattolici, e ho pensato e ho vissuto come se fosse irreversibile quel superamento. Ora, il caso della Spagna è clamoroso. L'Episcopato per la prima volta si pronuncia esplicitamente nel voto, invitando a non votare per il partito di Zapatero. Ma in Italia si esprime, secondo me, una propensione che io chiamo anche di ingerenza. Perché chiamo di ingerenza? Perché, naturalmente, vorrei che fosse chiaro, per me il fenomeno religioso non è solo un fatto privato, interviene anche nella sfera pubblica e legittimamente. È un fatto che attiene alla sfera pubblica. Non è questo in discussione. Si può parlare di ingerenza, secondo me, quando c'è la pretesa di una cattedra, quale che sia questa cattedra e di quale natura sia, che definisce il campo entro cui può operare la politica. E se la politica esce da quel campo, quella cattedra opera una sorta di scomunica. Cioè sostiene che quel provvedimento legislativo, quell'operare del legislatore, è immorale. Questo elemento determina, io credo, una condizione di ingerenza che in nome di una cultura laica totalmente rispettosa dei fenomeni di fede deve essere respinta in nome dell'autonomia della politica e del fondamento costituzionale della politica. La politica ha in sé i fondamenti per poter definire l'etica pubblica, non solo sul terreno delle unioni, ma anche sul terreno del salario. Io trovo indicibile la definizione temi eticamente sensibili per parlare delle unioni di fatto. La politica tutta affronta la dimensione etica, perché quella redistributiva, tra ricchi e poveri, non è una questione etica. Perché la difesa degli animali, della natura, dell'ambiente, come risorsa per il destino dell'umanità non è una questione etica. Ma solo che la politica deve essere autonoma, deve essere in grado di dire questa è la mia fondazione etica e su questa base costruisco la cittadinanza. E lei, secondo lei, è convincente da questo punto di vista il modo in cui il Partito Democratico sta affrontando il nodo, diciamo, fede politica? Come si vede, adesso a me spiace questo elemento di continua dialettica con il Partito Democratico, anche perché è fuori campo quella destra nei confronti dei quali noi abbiamo un'alternatività di fatta anche di avversione di fondo nelle sue politiche. Tuttavia, per stare su questo terreno di confronto, beh, sì, è evidente. Ma lo si vede anche, lo capisce tutto nominativamente. Basta dire che in quella formazione del Partito Democratico ci sono la senatrice Binetti e gli esponenti che vengono dall'esperienza del Partito Radicale per rendersi conto che c'è una dislocazione di forze che pretende, infatti, di determinare delle posizioni compromissorie e di eludere i nodi più spinosi che vengono posti non dall'intransigenza laica, ma delle nuove frontiere del vivere comune. Non è né merito né colpa di nessuna, è un portato storico. Se ci sono tante persone in Italia come in Europa che oltre che unirsi in matrimonio secondo un sacramento che io rispetto molto, si uniscono di fatto. E si uniscono di fatto anche secondo proprie vocazioni di affettive, di amore e persino rispetto alle proprie opzioni sessuali. Allora, di fronte a questo, banalmente, non si può tenere il piede in due scarpe. Io so che è dolorosa la scelta, ma è richiesto di farla. È richiesto di sostenere i diritti delle persone contro i limiti posti da tutte le cornici conservatrici. Bene, ancora un paio di domande. Missione all'estero, se governerete, chiederete il ritiro delle nostre missioni dall'Afghanistan, per esempio? Intanto, premessa. Io penso che la politica estera del governo Prodi sia una delle cose buone, non moltissime, che questo governo ha fatto. Sostanzialmente, una politica di pace che è cominciata con il ritiro delle truppe italiane dall'Iraq. In questa politica estera, anche di apertura ai paesi del sud del mondo, all'America Latina, ci sono dei punti di compromesso, uno di quelli è l'Afghanistan, oppure ci sono stati, secondo me, anche qualche errore, come quello recente sul Kosovo. Ma dentro una linea, sostanzialmente, che va apprezzata come una nuova collocazione dell'Italia. Nell'Afghanistan noi siamo di fronte a un fallimento evidente. Noi abbiamo sostenuto la conferenza di pace, perché la via d'uscita va cercata insieme. Non c'è un elemento avventurista. Diciamo, io adesso scelgo, sono in una coalizione di forze, devo muovermi perché la direzione di marcia sia chiara. Qual è la direzione di marcia? Dare una soluzione politica all'Afghanistan e non una soluzione militare che è impossibile. quindi lavorare per recedere dall'attuale presenza militare. Quindi lavorare al ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan. La uscita è un nuovo assetto, conferenza di pace, ritiro delle truppe NATO, nuove forme di intervento, di organizzazione. La ricondazione comunale è votata a favore della riconferma delle missioni in Afghanistan. Quando c'era un governo che era in grado di praticare una linea di politica internazionale che garantiva ciò che si chiama il contratto, cioè cosa devono fare i soldati lì, e che chiedeva una conferenza di pace. Venendo meno questa garanzia, è evidente che cambia la natura di quella presenza. Bush ha detto no al dialogo con Raul Castro, successore di Fidel Castro, perché lo ha definito un tiranno, e quindi con un tiranno non si dialoga. Per lei è un tiranno? Certo che per chi ha scaricato valanghe di bombe sulle popolazioni inerme dell'Iraq, è poco conveniente usare questi termini. dovrebbe essere indotto chi ha condotto l'America ad uno dei punti maggiori in popolarità che abbia mai avuto nella sua storia nel mondo ad essere più prudente, specie nei confronti di quel Sud America in cui tutti i paesi, dal Cile della Bachelet, al Brasile di Lula, all'Argentina di Kirchner, al Venezuela di Chavez, eccetera, tutti rivendicano una domina agli Stati Uniti a Medio. Però si provi ad andare. Io facciamo questo. Però mi scusi, siccome lei invece non le ha scaricate le bombe sull'Iraq, le ha scaricate Bush, lei la può usare il termine tiranno per Raul Castro? No. Io uso lo stesso termine che usa Lula. Cioè? Cioè il capo di un paese che ha difeso la sua autonomia dagli Stati Uniti d'America dopo una lunga rivoluzione anche facendo qualche errore. Qualche errore? Sono voi prigionieri politici morti per opposizioni politiche? Che sono stati da noi criticati anche andando da un conflitto aperto con il regime di Cuba ma senza ignorare quello che nessun paese latinoamericano e solo la boria di certa parte dell'Europa dimentica. Cioè un'esperienza che sotto il blocco americano ha provato a sopravvivere difendendo l'autonomia. Detto questo io sono contro i processi politici tanto più contro la pena di morte e quando è accaduto abbiamo detto con grande nettezza il nostro dissenso anche se il protagonista di quelle scelte si chiamava Fidel Castro. Allora grazie ad Antonio Noto grazie a Fausto Bertinotti grazie a lei Ilario Obama per chi sceglie però abbiamo veramente già sforato tra Ilario e Obama Obama naturalmente Obama? Bene, grazie per essere stato con noi grazie a tutti Contro Corrente torna lunedì prossimo alle 22.35 come sempre buonanotte